Buonasera, grazie a tutti i comoroi che hanno santificato parte del loro termine di essere qui stasera, ringrazio gli studenti, ringrazio i suoi partiti degli studenti che sono stati noi promotori di questo evento. Perché stiamo qua? Siamo qua perché io sono dell'avviso che l'università, oltre che a fornire lezioni, oltre che a fornire insegnamenti tecnici, l'università deve diffondere cultura e questo è il primo compito dell'università. Che poi questa cultura venga diversamente utilizzata, venga diversamente interpretata dal medico, dal medico veterinario, dall'altro tipo di professione, ma questo è un altro paio di generale, ma il principale scopo delle docenti universitari e dell'università è quello di diffondere cultura, quello di dare verità. Per cui io di buon grado ho accettato l'iniziativa degli studenti e ritengo che questa giornata, questa giornata sia un fatto molto importante. perché indipendentemente dal fatto che tutto ciò che è accaduto in campagna ha toccato direttamente la nostra facoltà, sia sotto l'aspetto sanitario, sia sotto l'aspetto socialista e quindi economico, indipendentemente da questo è un posturo che ognuno di noi abbia delle idee chiare su ciò che accade in questo territorio e le facciano di fuori crede, non dobbiamo dire a nessuno che cosa fa, però è importante che si sappia, è importante che uno abbia delle idee chiare sugli eventi, in modo che posso utilizzare queste informazioni a me, non voglio d'odore per il mio altro tempo e passano la parola alla dottoressa